Questa è una delle principi fondamentali di Romana Modeo per le unità della massa e riguarda la massa unitaria della particella elettrone. Questo afferma che nella unità della massa materiale della particella elettrone non possiamo e non dobbiamo considerare materiali le quantità decimali alla dimensione unitaria per la particella in chilogrammi 10 alla meno 31, perché esse quantificano antimateria. Infatti la dimensione riferita al chilo, dalla dimensione 10 alla meno 31 chilogrammi, riguarda l'unità della particella, ossia il prodotto tra la sua materia e la sua antimateria. Essa si esprime come n ennesimi, ma la quantità materiale è solo data dalla n e non dagli ennesimi. L'unica cosa da capire è perché la massa unitaria della particella è unitaria alla dimensione di 10 alla meno 31 chili. Dobbiamo considerare la sua dimensione inversa, quella data da 10 elevato a 31 chili e immaginarla quantificata in unità atomiche. Immaginiamo tutta la massa espressa da un metro cubo, espressa in linea di azione. Infatti il volume moltiplica un metro per un metro per un metro e ottiene il metro cubo. Quando noi al posto del metro mettiamo il valore lineare espresso in unità atomiche, ogni metro vale 10 elevato a 10 unità di spazio atomico. Quindi metro per metro per metro è 10 elevato a 10 per 10 elevato a 10 per 10 elevato a 10, il cui risultato è 10 elevato a 10 più 10 più 10, ossia 10 elevato a 30. Quindi 10 elevato a 30 esprime il volume unitario di un metro cubo. Ora, se vogliamo considerarlo come una massa, dobbiamo considerarlo come un valore che ha un ciclo unitario che rientra nel 10. Per cui dobbiamo moltiplicare 10 alla 30 per 10. Avendo 10 alla 31, noi abbiamo la massa di un metro cubo che avanza per 10. Ma 10 che cos'è? 10 è il ciclo atomico. Quindi il valore inverso a questo è il valore che esprime l'unità della particella. Quindi l'unità della particella della massa è la quantità inversa a 10 elevato a 31 ed è 10 elevato a meno 31. Fissato che questa è la dimensione unitaria della particella, tutti i valori sottomultipli esprimono quantità di antimateria. Quindi noi quando alla dimensione 10 elevato a meno 31 kg rileviamo che l'intero è 9, dobbiamo fermarci a quell'intero. Perché la quantità decimale che viene dopo rappresenta in modo unitario non la quantità di massa materiale, ma la quantità di massa antimateriale. All'apparenza dovremmo dovremmo avere 9 come numero intero e noni come numero decimale. Ma un nono è 0,111111111 e non 0,109 eccetera eccetera. Bene, questa è la massa come oggi è vista in fisica. 9,109389754 alla dimensione di 10 alla meno 31 kg. Questa è la massa impropriamente stimata oggi materiale nella particella elettrone. Come il ciclo 10 è un ciclo assoluto, così anche i decimi sono assoluti. Ebbene, il ciclo 10 assoluto è reso unitario solo nel 10 riferito a 1, ossia nei 9 barra 1 interi, il 9 che sottrae l'unità inappropriata al 10 che è l'1. Bene, allo stesso modo nei decimi successivi, che sono tutti valori assoluti, nello 0,1111111 bisogna sottrarre proprio l'unità appropriata. Essa è data dallo 0,001721357 che sottratta a 0,1111111 lascia misurate da questa unità lo 0,109389754 che appare aggiunto inappropriatamente, impropriamente a 9 intero. Cerchiamo di capire perché. Poiché 0,001721357 è la quantità decimale che si sottrae a 0,11111 per determinare la quantità residua, vediamo perché è l'unità appropriata. 0,001 è l'unità del millesimo della massa unitaria, quindi abbiamo l'appropriata presentazione della massa unitaria. il 7 successivo è l'unità del vincolo della propagazione sferica della luce o dell'ammassamento centripeto della massa. Ma agisce prima in linea reale, ossia 7, alla dimensione unitaria reale 10 alla meno 4, poi nel volume, ossia 7 per 3, 21, a livello di spazio complesso, cioè di unità 10 alla meno 6, poi nell'elettromagnetismo, ossia 7 per 5, 35, complesso, ossia a livello di 10 alla meno 8, e infine in linea riferita a 10 unità atomiche come 7 per 10 elevato alla meno 9. ciò significa che noi abbiamo come intero 10 e come decimali una quantità di decimi e fino a questo livello noi abbiamo valori assoluti sia nei valori unitari che in quelli decimali. Poi come il 10 si sottopone all'unità 1 e diventa 9 unità, allo stesso modo la quantità di 9 decimi successivi si sottopone al suo modello unitario del vincolo ai vari livelli lineare, di volume, di elettromagnetismo e di ciclo atomico. Questo modello unitario si pone come unitario nei confronti della quantità assoluta 0,1111111 e come al 10 si sottraeva 1 per dare il 9, a questo 0,11111 si sottrae questo valore unitario che noi abbiamo visto dipendere dai vincoli. Il risultato è che anche nei decimi noi vediamo quantità unitarie riferite a questa unità che abbiamo visto quanto vale in vincoli geometrici.